Il significato è rimettere al centro una delle categorie più deboli, più emarginate anche, che sono le persone che sono ammalate, chi nell'ospedale, chi in casa, e comunque che hanno bisogno di particolari cure, non solo di natura medica, ma anche di natura umana, hanno bisogno soprattutto di uno sguardo che infonda loro vicinanza, affetto, prossimità. La giornata del malato si inserisce un po' in questa volontà di far sentire i malati che sono al centro della preoccupazione della Chiesa. Proprio la pandemia ci ha fatto riscoprire la nostra fragilità che tentiamo un po' di oscurare. Il messaggio di speranza è che possiamo riniziare una vita normale, ma senza perdere a punto di vista quelle acquisizioni che, ahimè, in modo anche pesante, però ci sono state offerte come passo di un nuovo cammino.